ragazzi diventa più difficile perché siamo in semifinale contro francia comunque per tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono la massetta di sorse e siamo arrivati nella parte la terza parte di oggi che è il 24 di gennaio 2020 domani ci sarà la finale sempre sarebbe nel finale io vi lascio il video per tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io massi da 6 0 6 ma questo non avevate già capito oggi mi semifinale a dortmund contro spegna direi di iniziare francia spagna attenzione barbuto subito all'attacco barbuto 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 la bella canita attenzione gli spagnoli sono caniti subitissimo spagnoli fanno tiro spagnoli tirano barbuto toglie barbuto toglie il pallone barbuto barbuto va a fare tutto da solo barbuto va verso pallone tiro gol 1 0 non sei stato con la toccata barbuto alla fine ma è 1 0 1 0 per noi per noi francesi che sia una cura potrebbe essere un tiro con la sponda barbuto sta venendo da vomitare fio attenzione perché gli spagnoli non toccano pallone attenzione spagnoli che fanno un autotiro attenzione barbuto spagnoli fanno un autotiro barbuto ne approfitta non riesce non riesce a tirare attenzione perché avella un momento di far tuo gol barbuto un tiro da lì è un tiro da lì ancora ed è 2 a 0 il 2 a 0 della france sulla spagna corre barbuto un tiro più a palo prende il palo barbuto 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 attenzione l'altro gol l'altro gol dell'espegna l'altro gol dell'espegna 3 a 0 per la squadra per noi per noi per me parbuto ancora sembrava volesse fare il 4 a 0 non riesce a farlo a vela un tiro degli spagnoli non sono riusciti a fare a concretizzare bene la loro azione attenzione a vela perché tira verso la propria porta avversaria barbuto non ci può arrivare tira a vela di nuovo sembra essere un tiro barbuto la manca clamoroso clamorosamente la manca barbuto ma siamo a male braccio siamo fine primo tempo 3 a 0 siamo sempre qui vicino alla finale di berlino iniziamo perché dobbiamo andare in semifinale contro la squadra non so che o stati uniti o messico che sia di maria bella dalla caccia del pallone è possibile ragazzi non riesco a giocare mi fa male le corde vocali andiamo avanti comunque prima di poterci uscire continuamente barbuto barbuto attenzione attenzione si avvicina maria bella tocca barbuto un tocco con l'esterno è messo per tutto la manca di pochissimo non ho fatto forse si vedeva maria bella gli spagnoli la caccia non via comunque 40 secondi dall'inizio del secondo tempo e siamo vicinissimi al traguardo di raggiungere lo sedio di berlino manca un minuto e 17 secondi e poi saremo in finale per essere campioni del mondo grazie beppe tizioni perché aveva la mette in mezzo barbuto barbuto tizioni prova a deviare barbuto prova a togliere il pallone ci vorrebbe 4 a 0 barbuto tizioni gli spagnoli vogliono fare l'autogol barbuto gli spagnoli tirano fuori da sola mario bella vuole fare l'autogol attenzione barbuto gli ripetisce però gli spagnoli tirano di nuovo le putain delle spagnie delle spagno vorremmo anche mondiale con spagna eh regalo ve lo prometto perché adesso si va a berlino beppe barbuto marzimiliano barbuto chiudete le valigie andiamo a berlino andiamo a berlino sembro più caressa che un francese che lui c'ha la rimocia tra l'altro siamo in finale andiamo a berlino beppe si va a berlino beppe siamo in finale contro gli stati uniti regà io spero che il video vi sia piaciuto regà perché sto morendo e vi devo dovete lasciare un mi piace sicuro comunque tre partite ho fatto 17 gol e subito uno tra l'autogol tra l'altro comunque ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto vi do appuntamento al video di domani cioè il 25 di gennaio però questi video lo sto registrando come ho detto nel video di poco fa il 19 di gennaio vi do appuntamento al prossimo video cioè di domani cioè il 25 di gennaio io spero che questo video vi sia piaciuto era qua di prima io spero che il video vi sia piaciuto se il video vi è piaciuto lasciate un commento mi piace iscrivetevi al canale e attivate la campanella noi ci vediamo in un prossimo video quando ci sei ci sei tutto bella ragazza bella ragazza ciao ciao